E salve a tutti ragazzi, aspettate un attimo, aspettate un attimo, aspettate un attimo Ecco, ora va meglio Salve a tutti ragazzi, io sono Samudrammer27 Faccio questo video semplicemente per dirvi Buon Natale a tutti Siamo in 33 iscritti ma vabbè, speriamo di andare oltre quest'anno, io sta per venire Comunque, faccio questo video per dirvi che volevo fare un video musicale così per Natale Ma non ne ho avuto piuttosto la possibilità perché, insomma Motivi personali eh Bene, sto Che cazzo sto dicendo? Sto preparando inoltre tanta roba nuova Che quest'anno, quest'anno facciamo il botto proprio Allora sto preparando nuovi video musicali Forse magari anche qualche gameplay, qualche nuovo doppiaggio Insomma una carrellata di roba tenetevi pronti perché ce ne saranno a montagnare queste robe Beh, io voglio dirvi soltanto Buon Natale e Buon Anno Beh, niente, soltanto questo Non c'è altro da dire, questo video so che è cortissimo, probabilmente uno dei più corti che abbia mai pubblicato Niente, io come sempre, se il video è venuto, io vi invito sempre, come sempre a farmelo sapere con un commento e un bel pollicione in su Date anche un occhiata alle pagine facebook, instagram e diventate, i cui link come sempre trovate in descrizione Mi raccomando anche di iscrivervi e supportare il canale Detto questo vi saluto e noi ci vediamo Ho ho ho, merry christmas No, questa la eliminiamo Questa la eliminiamo Questa la eliminiamo